Ennesimo grave incidente a Milano con un monopattino elettrico intorno alle tre della notte tra mercoledì e giovedì infatti un 24enne alla guida di un monopattino in stato di ebrezza è caduto in piazza 24 maggio sbattendo la faccia e procurandosi un ampio trauma facciale. Il 24enne è stato sbalzato dal mezzo finendo contro una rotaia del tram e il cordolo di uno spartitraffico il ragazzo subito soccorso dal 118 è stato portato in codice rosso al policlinico. L'ennesimo episodio che riaccende la polemica sulla pericolosità dell'utilizzo dei monopattini elettrici e sulla necessità di una legge che nei regolamenti l'uso dà il casco al limite di età per guidarli. Per primo a commentare la notizia l'assessore alla sicurezza di regione Lombardia Riccardo Decorato che ha promosso la proposta di legge al Parlamento approvata dalla Giunta Lombarda alcune settimane fa che prevede l'obbligo dell'utilizzo del casco e di assicurazione per i monopattini elettrici e ne vieta l'utilizzo ai minori. Solo a Milano dal primo giugno dell'anno scorso ad oggi sono 709 le richieste di soccorso per incidenti in monopattino elettrico registrate dalla REU. Ha commentato Decorato, nell'ultimo mese si sono verificati nel capoluogo Lombardo 83 sinistri con una media di quasi 3 al giorno. Per Decorato non si può più stare fermi a guardare il numero di incidenti che cresce mentre Governo e Parlamento continuano a rimandare. Da loro non si hanno notizie in merito ad una legge nazionale, continua l'assessore, e temo che poiché la prossima settimana resteranno fermi a causa delle elezioni e poi per i ballottaggi non ne avremo ancora per un bel po'. Mi auguro che si arrivi presto ad una normativa nazionale, proprio per questo continuo la mia raccolta firme online per sollecitare il Governo e regolamentare questi mezzi, conclude infine Decorato.